Nel 2023 in Puglia il numero di donatori utilizzati è stato del 17,6% in aumento del 5,1% rispetto al 2022. Le opposizioni alla donazione di organi sono state il 30% in calo del 12% rispetto all'anno precedente. Sono inoltre stati effettuati 205 trapianti di organi di cui 184 da donatore deceduto e 21 da donatore vivente. Sono i dati illustrati a Bari in occasione dell'incontro Donare è una scelta naturale organizzato nel Policlinico dal Centro Regionale Trapianti Puglia e dall'Università Aldomoro, nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni dall'istituzione dell'Ateneo. Sempre nel 2023 sono tre i comuni pugliesi che occupano ottime posizioni nella classifica delle donazioni. Il comune di Corato in provincia di Bari si è confermato al primo posto a livello nazionale tra le città tra 30 e 100 mila residenti. Devo dire che anche quest'anno il trend è in aumento, in proiezione, oggi siamo arrivati a 72 trapianti già effettuati, quindi la proiezione è di arrivare a 240 nel 2024. Siamo in questo momento il centro che esigue il più alto numero di trapianti di cuore, quindi un ringraziamento particolare deve andare alle nostre famiglie. È aumentata la sensibilità alla cultura del dono, le nostre famiglie donano di più, abbiamo ridotto le opposizioni, siamo passati dal 41% al 30% di opposizione e questo dato ci riempie veramente di orgoglio. Ma un grazie lo devo anche a tutte le donne e gli uomini del programma trapianti che sono riusciti a mettere in atto una squadra, una squadra che lavora all'unisono, che si spende per il paziente visto come persona. E nel corso dell'evento è stato proiettato il primo cortometraggio in Italia che racconta la realtà del trapianto. In Viaggio, una produzione di TRM Network realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e il centro regionale trapianti Puglia. Il prossimo dono è In Viaggio.